Ad Andrea sesta edizione della camminata tra gli olivi. Oltre 1200 persone, secondo la sindaca Giovanna Bruno, hanno partecipato ieri alla giornata che si è tenuta presso tenuta Zagaria l'azienda agricola del conte Onofrio Spagnoletti Zeudi. Sentiamo. Questa camminata di Andrea tra gli olivi è diventato il format nazionale e questo glielo posso garantire perché facendo parte della giunta nazionale è diventato l'esempio per tutte le città. I 180 città in tutta Italia stanno facendo questa camminata tra gli olivi di cui 15 in Puglia. Chiaramente è emblematico, non è semplicemente una camminata, è uno stare all'aria aperta, avere un contatto con la natura e un aspetto di socializzazione. Ha degli obiettivi ben precisi, quella della valorizzazione e della tutela dell'ulivo, la promozione dell'olio extra d'ulivo, ma soprattutto anche altre finalità come quello del turismo, legato alla nuova legge sull'olio turismo che noi come città dell'olio siamo stati protagonisti, oltre ad aver presentato un emendamento che la regione, che ringrazio l'assessore Pentasuglia per averlo inserito all'interno della regolamentazione. Qui significa creare anche opportunità di lavoro e di sviluppo per questo territorio, ricordando che l'agricoltura è l'attività principale di questa città. È una grande gioia, una grande felicità, la gente ride, è contenta finalmente con tutti i problemi che ha, penso una giornata nella natura, nell'ambiente, il nostro ambiente di Andria è un ambiente incontaminato, questa foresta di olivi, la gente deve capire che chiaramente è un ambiente più sano di così, perché l'olivo è la pianta che più abbatte la CO2, quindi è una meraviglia, credo poter camminare poi con questa bellissima giornata, Io mi auguro che sia una giornata di serenità, di pace e di conciliazione con tutto.